Dove l'avete presa questa roba? In Colombia. Vi dispiace se mi acchitto una striscia? Certo, fai pure. Facciamocela tutti, cazzo. Che ti avevo detto, Derek? Ottima, ma io che ci faccio con questa roba? La vendi? Santo cielo, George, non ti vedo per due anni e ti ripresenti alla mia porta con 55 chili di polvere. Tu pensa a venderla, Derek. D'accordo, ma mi ci vorrà almeno un anno. Non mi sento più la faccia. Cioè, la tocco, ma non me la sento dentro.